Accompagna i momenti migliori della vostra vita. A soli 10 minuti d'auto dal casello autostradale di Genova Voltri, Villa Costalta offre ai suoi ospiti la possibilità di soggiornare in un ambiente sereno ed estremamente confortevole. Nella residenza trovi il comfort di un albergo, l'assistenza infermieristica, servizio di fisioterapia, tutto circondato da un'atmosfera di benessere e sicurezza. La zona giorno, la sala pranzo e tv si affacciano sui prati del parco attorno alla villa. Le camere sono accuratamente arredate nel rispetto delle esigenze degli ospiti. Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente.